Buongiorno a tutti, buongiorno e buona domenica, ben ritrovati cari amici milanisti, ben ritrovati oggi in questa giornata che è una giornata che avremmo voluto ancora trascorrere in testa la classifica, non ci è stato concesso. La Juventus Serie ha vinto a Genova, come abbiamo commentato nel secondo canale Calcio Totale al quale vi invito a iscrivervi e quindi è svanito il sogno del primato. È stato breve ma intenso, è durato meno di 24 ore, ma per ora ci accontentiamo. Ci accontentiamo perché è arrivato questo risultato, questa classifica è arrivata al termine di una settimana buona, positiva. La vittoria nei derby, il successo con il Lecce, una considerazione di se stessi che è cambiata. Ma adesso comincia un'altra settimana importante, domani comincia una settimana importante. Domani la partita in arrivo martedì con l'Everkusen e poi domenica prossima tra una settimana contro la Fiorentina. Due partite molto importanti, a modo loro difficili, più difficili quella di martedì, trasferte a non sottovalutare quella di domenica, ma una squadra che arriva con il giusto entusiasmo. Arriva con un gruppo che si sta creando anche grazie ai nuovi, anche grazie agli Ebram, anche grazie ai Morata, che sembrano aver portato quel qualcosa da trasferire ai compagni per crederci, per cercare in questo momento di andare oltre a quelli che sono i limiti oppure a quelli che sono i ritardi nel lavoro di Fonseca. Ecco, io di questo voglio parlare, lo voglio fare dopo due vittorie, perché parlare dopo le vittorie di questa cosa è più difficile. Parlare dopo la sconfitta delle cose che non vanno è più facile. Farlo dopo due vittorie e dopo che, insomma, abbiamo annusato l'area di alta classifica è più difficile. Ma a noi piacciono le sfide difficili, a me piacciono le sfide difficili. Ed ecco perché vi dico innanzitutto che qui è troppo chiaro, quindi bisogna forse abbassare un pelo. Ecco, così forse è meglio. Sembro, sono bianco praticamente, non importa. Dicevo, le cose difficili. Allora, le cose difficili sono contemplare il fatto che tutto questo entusiasmo va bene, tutto questo entusiasmo è lecito, tutto questo entusiasmo ce l'abbiamo anche noi, ma abbiamo vinto due partite. Cioè, la mia vita è tre consecutive, ma abbiamo vinto due partite nell'ultima settimana. Dobbiamo dare continuità, ma dobbiamo farlo attraverso il gioco. Non basterà solamente la voglia, non basterà solamente il gruppo, non basterà solamente compattarsi per cercare di superare la fase iniziale di questa stagione che non è stata buona. Questo non basta, ci vuole lavoro sugli schemi, ci vuole lavoro sul modo di stare in campo, ci vuole lavoro sull'applicazione di certi giocatori che devono darci una struttura di squadra. Noi non ce l'abbiamo ancora, abbiamo un abbozzo di strutture di squadra. Il 4-4-2 di Fonseca è stata una scelta premiante nel derby, non c'è dubbio, perché abbiamo giocato nel modo giusto contro l'Inter. È stata meno premiante con Lecce, ma lo si poteva sospettare, dato che lì le dinamiche della partita erano diverse. Adesso andiamo in Germania contro una squadra che ha pareggiato con il Bayern Monaco ieri, in una partita dove è passata in vantaggio, dove poi è stata recuperata il Bayern, dove il Bayern ha avuto delle occasioni anche per fare gol, dove le ha avute anche l'Evercuse, insomma l'Evercuse ha tenuto testa da squadra campione di Germania a quella che si candida seriamente per ritornare ad esserlo, ovvero il Bayern Monaco. Quindi tutte queste cose ci raccontano di una partita difficile, di una partita complicata, di una partita che dovremmo affrontare con le modalità del derby. Ovvero, attenzione, non slegarci, squadra compatta, occhio alle ripartenze, cercare di fare male con le nostre armi, a nostra volta in ripartenza. Avremo modo magari domani e martedì di approfondire questa cosa, fermo restando che martedì sera sarò in diretto ovviamente dalle 20.50 per commentare e seguire insieme a voi la partita. Bene, detto questo, introduco un vocale che mi è arrivato, il numero di telefono per i vostri vocali lo conoscete, è scritto qui sotto, è il 366-111-2964. Da lunedì, da domani, potrete chiamare in diretta nel corso della compagnia della LAI, quindi dalle 18.30 potrete chiamare questo numero e intervenire in diretta in trasmissione per dire la vostra opinione sul Milan. Bene, vi faccio sentire questo vocale che introduce un tema interessante che si lega al discorso di squadra e di gruppo. Buongiorno Rinaldo, Forza Milan è un saluto agli amici del Corner, che se no mi dicono non li saluto. No, volevo solo dirti che una cosa che mi sembra più rilevante è come ci sia uno spirito di squadra che stia venendo fuori, anche i filmati si sono visti dopo il derby, come i ragazzi si incidono l'un l'altro, come cercano di trovare delle soluzioni per una sorta di bene comune. E credo che questo legame sia stato cementato dall'assenza della società, da questa società latitante che fa solo sparate su giornali di rigua inglese e che comunque ha abbastanza abbandonato a se stessa questa squadra in un momento di difficoltà. Grande merito a Fonseca per questo, ma anche grande reazione da parte dei ragazzi, anche quelli più contestati come Teo e Leao, che secondo me hanno trovato la forza del giro proprio per dimostrare a questa banda di ignavi cosa vuol dire essere giocatore e cosa vuol dire essere una squadra. Io personalmente la vedo così, non so se sia corretta o meno la mia visione, ma personalmente credo sia così. Allora, noi dobbiamo augurarci che non sia così, dobbiamo augurarci che non sia così. Cioè, secondo me, intanto ringrazio Amico per avermi dato questo interessante vocale, la questione è questa, se davvero fosse così, cioè se davvero la sensazione che abbiamo di una squadra, non dico abbandonata, ma di una società dove non ci sono figure capaci di rapportarsi con la squadra, sul fatto che Fonseca sia solo, sia solo, beh, insomma, qui la sensazione resta quella. E in un certo senso ha ancora più merito per essere riuscito finora a salvare la baracca, insomma, da quello che poteva sembrare un esonero certo, che non è ancora sventato, perché, insomma, sì, abbiamo vinto il derby ed è stata una partita che ha dato grande valore, perché era un derby, ma la strada è lunga. Allora, dicevo, speriamo che non sia così, perché se la sensazione che abbiamo, ovvero che la società non ci sia, che i dirigenti non ci siano, non stiano con la squadra, non aiutino la squadra, non la supportino, e che quindi squadra e allenatore o squadra da sola, non lo so, abbiano fatto gruppo, perché nonostante siano stati abbandonati, avevano voglia di fare le cose per bene, è uno scenario agghiacciante al quale, nonostante la scarsissima stima che io ho nei confronti dei nostri dirigenti, non voglio credere, non voglio e non posso credere, perché a questi livelli immaginare una situazione del genere vorrebbe dire davvero accusare i nostri dirigenti di non saper fare il loro lavoro, cosa che non è che non abbiamo mai fatto, l'abbiamo anche fatta, ma adesso è troppo importante prendere il sentiero giusto. Noi non l'abbiamo ancora imboccato, non l'abbiamo ancora imboccato, dobbiamo ancora imboccarlo, e per prenderlo c'è bisogno di restare sereni, e quindi non introdurre nel dibattito un tema come quello del nostro amico nel vocale, che sicuramente può essere un tema di discussione, ma lo sarà nel momento in cui ci sarà un problema, perché io non credo al fatto che il derby sia stato vinto perché la collaborazione tra tutte le anime del Milan abbia permesso di svoltare e dare finalmente un segnale. No, io credo che sia stata preparata bene la partita, applicata bene dai giocatori, fatto quello che si doveva fare e che si poteva fare anche cinque partite fa, ok, ma che per motivi a noi misteriosi Pioli non ha mai fatto, ma questo è quello che è successo, è stato un momento, un lavoro ben fatto. Quanto ci sia di incidenza da parte dei nostri dirigenti, sinceramente noi non lo sappiamo, anch'io penso che non ci sia un grande supporto da parte dei nostri dirigenti, anche perché non sanno farlo, loro sono molto bravi con i numeri, e lo dimostrano anche i dati del bilancio che sono stati pubblicati e che insomma sottolineano la bontà del loro lavoro dal punto di vista dei numeri, poi in realtà anche qui la bontà del loro lavoro, diciamo più la bontà di quelli che c'erano prima, quindi di chi con Elliot ha riorganizzato il Milan e l'ha riportato in alto, conducendolo a vincere un campionato, una semifinale di Champions, eccetera, con quelli attuali, ecco, diciamo che dobbiamo ancora trovare, a parte la qualificazione Champions ottenuta l'anno scorso tranquillamente, ma dobbiamo ancora trovare il modo di dire sì, sono stati bravi a fare il lavoro di risanamento oppure, per meglio dire, di mantenimento di una struttura positiva all'interno del Milan, ecco, anche di questo argomento, sarebbe bello non occuparsene mai più, ma i tempi sono cambiati e mi si dice che bisogna adattarsi in ogni caso. Quindi lo facciamo, ma se ci si adatta in ogni caso, ci si deve adattare anche al fatto che una società che vuole puntare a vincere deve avere una struttura di un certo tipo. Ce lo siamo detti mille, aspetta che c'ho il conteggio qua, ce lo siamo detti con questa 1784 volte, negli ultimi due anni e mezzo, 1784 volte. No, è un numero immaginario ovviamente, ma ce lo siamo detti un sacco di volte. Se così fosse, perché qual è il problema, no? Dici, perché dici che speri che non sia così? Perché se così fosse, alle prime eventuali difficoltà che potrebbero arrivare, cioè risultati negativi, ragazzi, teniamo presente una cosa, questa è una squadra anche piuttosto umorale, lo è stato l'anno scorso, lo è stata due anni fa, lo è anche quest'anno. Io non credo che Fonseca sia in grado di gestire, ma non perché io ce l'abbia con Fonseca, anzi, mi è stato anche detto, ce l'hai con Fonseca adesso, lo credi? No, io a luglio, a luglio, chi scrive queste cose evidentemente non era aggiornato o non era già qui con noi, ma a luglio io dissi, arriva Fonseca, diamogli modo di lavorare e vediamo che cosa ci dimostra. Perfetto, lui ci ha dimostrato una partita fondamentalmente, il derby, nel derby si sono presi degli accorgimenti rispetto all'avversario per fare bene le cose. È una partita però, una, siamo a sei, non conto la vittoria col Venezia, non conto la vittoria con il Lecce, perché quelli le vincevamo anche l'anno scorso, io voglio vedere qualcosa di più, voglio vedere la mano del nostro allenatore, che non deve essere, che deve darmi un'idea, non deve essere, ecco, la situazione della partita singola, voglio vedere un percorso, un cammino di crescita, io in questo momento non lo sto vedendo, perché sono contentissimo, anzi ero anche lo stadio Friuli è qua davanti, cioè qua, insomma, linea d'aria a qualche chilometro, ma speravo davvero che i miei riti propiziatori, fatti sul terrazzo, nonostante la pioggia, è uscito il sole e pioveva ieri, durante la partita, quindi questo speravo che portasse al pareggio magari dell'Udinese, così non è stato, non sono bastati i miei riti, quindi io volevo il Milan in testa della classifica, io voglio il Milan che vince le partite, a me non me ne frega niente di criticare, io non voglio criticare, io voglio commentare un Milan che vince, voglio dire quanto sono bravi, voglio far sentire ad altri amici, tifosi di altre squadre, e so che ce ne sono tanti all'ascolto, vorrei raccontare di quanto noi si sia forti, di quanto si sia organizzati, di che struttura abbiamo messo in piedi, rimesso in piedi perché ci chiamiamo Milan, in questo momento non è così, ma in questo momento, mi auguro che in un momento successivo, cioè quello che voglio io, è che martedì si vinca, si faccia una partita importante, ci siano altri indicatori che dimostrino come Fonseca abbia le idee chiare su quello che vuole fare, perché se lui vuole fare quello che ci ha detto alla presentazione, non è quello che abbiamo visto, se lui vuole fare quello che ha detto in conferenza stampa, prima del Lecce, non è quello che abbiamo visto con il Lecce, e allora dobbiamo ancora capire quale sia la sua vera identità, e quale sia soprattutto la sua vera idea, che cosa vuole fare il mister, questo è il grande interrogativo, che dovremmo sciogliere e cominciare a farlo, perché poi, insomma, adesso pare che, avete visto, l'Inter ha detto non l'avere preso a vincere, l'Aventus ha vinto, vedremo il Napoli che cosa farà oggi, però il rischio è che adesso, ecco, tutte si mettano in moto, e noi dobbiamo avere il motore acceso, non dobbiamo essere come i diesel di una volta, che dovevi metterli in moto e aspettare che si scaldassero, dobbiamo essere pronti, ma per farlo dobbiamo avere organizzazione, e non dobbiamo avere la situazione, che diceva il nostro amico nel vocale, non ci deve essere questa cosa, la squadra non può essere abbandonata, perché una squadra abbandonata, una squadra senza una società forte, una dirigenza forte, non vincerà mai niente, e io non voglio mai continuare a non vincere mai niente, io vorrei vincere ancora, perché gli anni passano, le stagioni passano, e siccome ho avuto da piccolo la fortuna di questo imprinting rosso-nero, che mi ha accompagnato nella vita, e beh, io sono insaziabile, io voglio vincere, non voglio aspettare tanto, quindi mi auguro, ecco, che Fonseca possa mettersi in testa un'idea meravigliosa, come Cesare Ragazzi, ve lo ricorderete sicuramente, e gestire il Milan, e provare a fare con quello che ha, io ho seri dubbi, e spero davvero di essere smentito, spero che Fonseca venga qua e mi dia due sberle, mi dica, ti sei sbagliato? Bene, le accetterei, porgerei l'altra guancia, ma io ho seri dubbi che con questa squadra si possa dare continuità ai risultati, lo vedremo, lo vedremo, mi auguro che sia solo la mia una sensazione dettata così dallo studio della rosa, dallo studio delle partite, dalle analisi, eccetera, eccetera, che sia completamente sbagliata, completamente sbagliata, voglio sbagliarmi su tutto, voglio sbagliarmi su tutto, così come non pensavo, e lo dico, ovviamente, perché se c'è una cosa che smentisce un mio pensiero, io ve lo dico, l'ho sempre fatto perché c'è un rapporto di onestà, vedete qui in questo spazio, in questo canale non c'è un rapporto di carri, sciocchezze del genere, retromarce, tutte queste cose, dove si fa analisi, si cerca di prevedere, poi è come fare una scommessa, tutti i basi sui tuoi dati, ma poi può andare in un altro modo, e nel caso in cui tu dica una cosa che poi si dimostra essere positiva, e tu non pensavi che potesse essere così positiva, beh, intanto sono contento, e poi ve lo vengo a dire, perché per onestà bisogna dire che Pulisic la scorsa stagione ha fatto una buona stagione con un impatto meno decisivo in tante partite dove ci aspettavamo che determinasse di più, dato il fatto di questa sua anomalia rispetto alla carriera di una condizione fisica e di zero infortuni, praticamente, se non qualche efficizie. Quest'anno, quest'anno ha fatto quella al Liverpool, ha fatto quella al Derby, è capocannoniere della Serie A, cioè un impatto veramente, quest'anno veramente decisivo, e io non pensavo onestamente che Pulisic potesse dare questo tipo di contributo, quindi sono contentissimo di Christian, perché poi, al di là di tutto, mi sembra un ragazzo serio, un ragazzo, anche lo straniero più attaccato alla maglia che abbiamo, mi sembra, mi sembra, è una sensazione, io non lo conosco, non sono a Milanello, quindi mi sembra, ma ho avuto questa percezione, e devo dire davvero che sono sorpreso dalla continuità di rendimento e dalla capacità di stare dentro la partita anche quando la partita non lo coinvolge, come è successo venerdì, dove lui è stato un po' escluso da una manovra che andava soprattutto a sinistra, ma nel momento in cui serviva si è fatto trovare pronto, quindi veramente complimenti a Christian per il lavoro che sta facendo, per la serietà della sua applicazione, spero davvero, spero davvero che quest'anno possa fare tanti gol nelle partite decisive, lo voglio vedere segnare martedì, lo voglio vedere segnare alla Juventus, al Napoli, a tutte le partite che verranno, magari al Bernabeu, sarebbe bellissimo, insomma, comunque bravo Christian, davvero, davvero per certi versi sorprendente rispetto a quello che era lo storico della sua carriera, quindi molto, molto bravo, il tutto all'interno di una squadra che deve convincerci appieno, questa è la missione, ma la missione più importante è che voi passiate una buona domenica, grazie.